Salve a tutti siamo qui con un nuovo video, in questo video continueremo a stare sulla mod degli zombie in questo episodio ragazzi Wow, ok già iniziamo con le urla di... ok diamine non avevo neanche notato che attaccato all'albero c'è una specie di persona mummificata e con il cello fa non so neanche che diamine aspettate che ho due zombie anche che corrono quindi appena io scendomi inizieranno a inseguire. Ora ragazzi in questo episodio abbiamo continuato e continueremo la storia su questa serie e ora abbiamo fatto molti progressi dall'ultimo episodio, vi ricordate l'ultimo episodio in cui abbiamo trovato il posto perfetto per creare il nostro accampamento la nostra casa che sarebbe la scuola abbandonata, è un ottimo posto e aspettate che intanto che vi parlo uccidiamo questi zombie perché inizia ad essere un po' preoccupante la situazione, mamma mia, mamma mia signor, mamma mia, vada via ma perché non mi hanno fatto niente? Strano, si sarà... oh cavolo, quindi corrono un po' troppo ma è perché è notte quando è notte ragazzi, mamma mia, perché non mi fanno niente? Ok, non ho idea Ok, 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 perfetto, ah, perfetto, benissimo, benissimo, e due sono fatti, vediamo se ce ne sono altri pare di no, prendiamo ovviamente come sempre tutte le risorse dai cadaveri quindi come vi stavo dicendo appunto siamo nella scuola e abbiamo creato una specie di accampamento almeno avevamo creato una tenda e due mura nell'ultimo episodio, se non la smetti di gridare ti giuro che ti spapolo in due è perché tiro sempre al contrario, è sempre al contrario, aspettate, devo capire poi perché non mi stanno facendo niente probabilmente è colpa mia, aspettate, ah, bene, oh, là le ho tagliato la gola, benissimo cerco il colpo di grazia, ecco fatto, quindi prendiamo le risorse direi che i coltelli fanno schifo in questo gioco ragazzi perché quando cerchiamo di accoltellare uno zombie ci giriamo dall'altra parte e quindi lui ci colpisce ok, quindi, ah, alleluia, sono morti entrambi adesso vi posso spiegare allora se abbiamo l'accampamento, abbiamo creato due mura e una tenda e un fuoco da campo quindi era l'unica cosa che avevamo ora abbiamo costruito un intero villaggio, non è vero, non è assolutamente vero ma abbiamo costruito la nostra casa in maniera completa quindi ho trovato tutti i pezzi di legno che mi servivano ho creato i muri, come avete visto nello scorso episodio che si possono creare i muri di legno e quindi adesso abbiamo finalmente un accampamento fisso e non siamo più nomadi e lì possiamo portare tutte le nostre provviste quindi ora sono alla ricerca di provviste mi pare di aver trovato abbastanza oggetti quindi a parte che gli zombie urlano perché ormai è notte quindi non devo mai uscire di notte, devo ricordarmi di non uscire mai di notte e mannaggia questo coltello che ogni volta mi fa cadere devo trovare delle armi, ecco che cosa sono venuto a cercare l'unica cosa che devo trovare è che mi manca sono delle armi, anche all'accampamento non ne ho nessuna perché le armi purtroppo hanno le munizioni che finiscono quindi ok, ok, ho bisogno assolutamente di prendere quell'animale vediamo come non farlo scappare come ucciderlo senza farlo scappare senza le armi da fuoco che sarà piuttosto difficile perché scappano appena sentono un minimo rumore ok, c'è uno zombie che mi sta dando fastidio perché mi sta proprio in mezzo tra la traiettoria tra me e quel bellissimo cervo che, ok, ok, l'ho accoltellata nella gola speriamo, no, non è ancora morta per fortuna è stata zitta così almeno forse non scappa l'animale e il coltello non fa neanche troppo casino quindi, ok, ora è morta prendiamo le risorse non abbiamo trovato nulla è stata pure inutile oltre che cicciona ok, vediamo un secondo se riesco a colpire questa oh, come mai? mi posso avvicinare ragazzi, guardate così tanto non dice niente ok, proviamo ad attaccarla wow, diamine wow, è caduta così probabilmente è malata, sì probabilmente lo è quindi vediamo che cosa riusciamo a trovare abbiamo trovato della carne cruda naturalmente uccidiamo l'animale esattamente per quello l'abbiamo tolto l'interiore adesso c'è rimasta carne cruda pronta da preparare una volta che torniamo a casa e abbiamo perché c'è un altro qua comunque abbiamo il fuoco da campo in cui possiamo scuocere la carne poi lì ci facciamo una bella bistecca di dino vieni qua, vieni qua perfetto sono più facili delle persone da uccidere questi animali adesso devo trovare delle armi da fuoco come vi ho già detto quindi è l'unica cosa che sto cercando perché c'è chi è che urla adesso? non lo so non lo vedo sarà incastrato da qualche parte è probabile diamine questo posto guardate che roba tutto, tutto bruciato c'è addirittura un aereo di linea che si è schiantato una cosa brutta è che purtroppo non si trovano mai delle armi da fuoco dalle persone che si uccide perché non lo so per quale motivo ma non le hanno mai probabilmente perché sono morte prima dell'apocalisse quindi dobbiamo tornare alla nostra moto che non è questa per fortuna perché questa non ha le gomme vediamo se qua dentro ci sono delle armi di solito c'è qua uh no c'è un motore che diamine ci fa un motore qua dentro non lo so speravo fossero degli armamenti e per un secondo lo pensavo appunto come vi stavo dicendo voglio tornare a casa perché lì abbiamo da dormire innanzitutto dato che ormai è notte e poi così vi faccio vedere la casa che ci siamo costruiti ora come vi ho già detto nello scorso episodio si possono creare degli accampamenti completi del personale che coltiva la terra mi pare vediamo questa non si apre di porta purtroppo non c'è nulla dobbiamo solamente trovare dei sopravvissuti uccidere dei sopravvissuti e rubargli le loro armi guardate come urlano questi questi due sembrano una coppia marito e moglie ecco buono quindi come vedete nella mappa c'è una zona in cui c'è una casetta che è esattamente questa e qui è dove abbiamo creato appunto il nostro accampamento ora voglio tornarci ma prima devo ritrovare diamine ancora queste mummie prima devo trovare la mia moto quindi torniamo nel punto in cui eravamo prima all'inizio purtroppo è stato inutile venire qui a parte qualche risorsa non abbiamo trovato armi quindi torniamo alla nostra moto e poi ragazzi ah diamine quanta gente quanti zombie il segreto per uccidere gli zombie immediatamente è colpirli in testa purtroppo con queste armi non è così facile riuscire a colpirli in testa ogni volta però torniamo alla moto che mi pare di aver lasciato qua da qualche parte ok ragazzi abbiamo un problema abbiamo un problema siamo disidratati siamo disidratati improvvisamente quindi non solo devo creare adesso immediatamente un fuoco da campo ma oddio oddio ok ok non dobbiamo morire ragazzi non dobbiamo morire ok creato perfetto bene beviamo qualcosa diamine non me ne sono neanche accorto che eravamo completamente disidratati ora uno zombie stava arrivando proprio nel momento in cui stavo bevendo la mazza da baseball è più facile colpirle in testa con la mazza ok ha sbattuto avete visto che figata ha sbattuto contro riprendiamoci tutto quello che abbiamo lasciato qua che è semplicemente il fuoco da campo però prima voglio bere ancora qualcosa perché non so se ci basterà per arrivarci ok ci dice che non c'è il fuoco da campo qua vicino ma eccolo qui quindi adesso possiamo bere di nuovo bene beviamo ancora un po' giusto perché ho bisogno proprio di ripristinare la sete fatto e adesso vediamo se riusciamo anche a mangiare qualcosa perché anche quella è un problema dato che abbiamo adesso la carne giusta giusta pronta pronta vorrei riuscire a mangiare qualcosa dove diamine lo posso trovare possiamo cucinare per prendere della carne cotta quindi eccola qua la carne cotta bene adesso mangiamo anche qualcosa perfetto ottimo quindi abbiamo mangiato abbiamo bevuto siamo a posto aspettate che non voglio prendere fuoco prendiamo il fuoco da campo e torniamo nel nostro veicolo eccola qua la moto l'ho lasciata qui prima benissimo guardate che figata sempre che si gira davanti quando acceleriamo è veramente fantastica poi c'è il teschio rosa davanti con anche una scritta che aspettate cosa diamine c'è scritto sopra i watch qualcosa del i dutch boh non so qualcosa simile quindi adesso ragazzi vediamo di tornare fino al nostro accampamento e poi ci vediamo una volta che siamo arrivati lì abbiamo rischiato di morire pochi secondi fa vediamo che cosa che cosa ho nell'accampamento e se è ancora tutto a posto come era prima eccoci qua casa dolce casa rimettiamo sempre la moto dove sappiamo noi ormai cioè questo c'è spuglio giusto giusto qua che ci fa proprio al caso nostro ora rientriamo dentro la scuola che come vedete è molto barricata ed è stata una fortuna trovarla già così perché ci ha permesso appunto di sistemarci in una zona pulita da zombie ora guardate che cosa siamo riusciti a creare durante questo periodo di pausa tra le due stagioni guardate ragazzi guardate che figata abbiamo semplicemente posizionato correttamente tutto il legno ora non è a prova di acqua perché ci piove dentro ma non mi interessa tanto anche dentro non abbiamo nulla di valore che se bagnato potrebbe essere un problema e soprattutto dormiamo dentro la tenda quindi non c'è un letto che poi diventerà marcio ma adesso dormiamo dentro la tenda quindi è fatta anche per la pioggia ora ragazzi guardate è o non è bellissimo abbiamo creato una porta qua e adesso entriamo dentro così vi faccio vedere che cosa ho guardate ora un po' di vegetazione c'è qui effettivamente però abbiamo una sedia abbiamo un comodino tutto rubato da alcune case in cui sono andato io vedete abbiamo la tenda qui per poter dormire il fuoco da campo e tutto quanto la nostra sistemazione perfetta ora l'unico problema è che appunto ci sono dei buchi nel tetto ma questi sono difficilmente riparabili ad esempio quel triangolo degli illuminati qua per il resto direi che è a posto è veramente veramente una figata ora usciamo dato che vi ho fatto vedere la novità della giornata vediamo di trovare delle armi dobbiamo assolutamente trovare delle armi quindi se riuscissimo a trovare dei sopravvissuti possiamo forse cercare tentare di ucciderli e prenderci le loro armi so che la cosa più pericolosa è più difficile da fare ma ragazzi possiamo provarci ho sentito un rumore nelle foglie non vorrei che ci sia uno zombie dubito perché è completamente chiuso forse ero io stesso a produrre il rumore abbiamo trovato questa zona quindi adesso dobbiamo cercare dei sopravvissuti buoni con cui possiamo diventare praticamente partner e creare una specie di villaggio accampamento che ne dite? wow ok ragazzi neanche finito di dire ci sono dei sopravvissuti amichevoli non troppo lontano da qua andiamoli subito a trovare sapete perché sono una cosa buona non solo per creare degli accampamenti che non penso comunque di fare ora quindi non penso di rendermeli amici appena arriviamo ma sono utili perché solitamente sono sempre armati quindi penso che siano qua sopra perché cercavano degli animali cercavano delle provviste del cibo come vedete si sono armati sono tutti armati ora vediamo se mi uccidono a me no ok mi hanno puntato ma non penso che no sono amichevole sono amichevole tranquilli sono tutti quanti armati il che è un'ottima notizia per noi perché? perché come vedete sono degli idioti in mani questo perché non si può sparare agli zombie in questo modo allora due cose non sanno una è che per ucciderli bisogna colpirli in testa e vedo che li stanno colpendo continuamente sul corpo e secondo non si può assolutamente sparare con un'arma da fuoco del genere contro gli zombie per il semplice motivo che l'unica cosa che ottengono sono altri zombie ancora perché vengono attirati dal suono delle armi quindi questo significa che finché hanno munizioni vanno pure bene poi finiscono le munizioni e si trovano 300 zombie su di loro ci sono un sacco di zombie che vengono attirati al momento guardate là ce ne sono tipo una decina solamente in quel punto e speriamo che anzi speriamo che vengano da loro e che le uccidano perché così posso rubargli le armi quindi io dovrei aiutarli teoricamente dato che sono degli amici ma non lo faccio perché voglio prendermi le loro armi ora meglio le persone o le armi sempre meglio le persone ragazzi perché se diventano nostri alleati possiamo diventare più forti però le armi come prime cose mi servono subito quindi adesso aspettiamo che muoiano e poi direi che gli rubiamo le armi oh mio dio ok wow è scoppiato il veicolo accanto a loro e sono morti in due contemporaneamente quindi è il momento perfetto per rubargli le armi oh perfetto benissimo un fucile a pompa l'abbiamo preso anzi era un fucile d'assalto più che altro ora facciamo subito backup 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 perché ci sono un bel po' di zombie qui andiamocene via e aspettiamo che muoia anche lei magari nello stesso modo sarebbe ottimo intanto c'era anche un cassetto della merry weather che hanno rilasciato da qualche parte qua vicino purtroppo abbiamo fallito a prenderla ha preso qualcun altro e quello è buono perché troviamo dei nemici ma è meglio trovare degli amici mamma mia anche lei è morta nello stesso modo ok perfetto quindi zombie vi lascio al vostro destino quindi quello che vedo io è che abbiamo 30 to 30 colpi di mitragliatrice e un'infinità di colpi di pistola mitragliatrice ora si stanno cibando come vedete dei corpi di quegli altri due che erano morti quindi sono tutti lì purtroppo non ho una granata se no avremmo fatto con baldoria oggi quasi quasi li uccido tutti e mi prendo le loro scorte guardate qua che mischia guardate qua che mischia che figata ragazzi sparare nella mischia di zombie ok ci sono degli ostili qua vicino probabilmente vedete questa è una zona di caccia quindi attira sia ostili che compagni forse hanno sentito anche le i miei colpi di arma da fuoco quindi per quello possiamo anche attirare dei nemici in questo modo li abbiamo uccisi tutti quindi adesso baldoria possiamo prendere un sacco di risorse da loro ok perfetto ne ho preso una marea non riesco neanche a uscire da qua bene 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 ne manca uno perfetto ora torna wow 8 risorse lo zombie probabilmente con più risorse che ho mai trovato forse quindi adesso abbiamo delle armi da fuoco per fortuna direi di tornare verso casa che dovrebbe essere qua e poi ragazzi ci vediamo anzi direi di fare un altro giro per vedere se c'è qualcos'altro in giro ok baldoria qua ragazzi ah ah guardate che figata quanti zombie che ci sono in giro è bellissimo prenderli soprattutto anche di giorno è veramente una figata poterli prenderli wow diamine prendere un silenziatore quella sarebbe una figata assurda ora perché quello zombie è fermo lì oh ok diamine wow non ci credo ragazzi ne abbiamo trovato oh mio dio questa è una specie di easter egg immagino figata assurda aspettate voglio fare una cosa con lui perché come vedete si sta comportando in maniera diversa dagli altri zombie non so per quale motivo ma se noi lo facciamo cadere lui si rialza ma non ci viene tipo addosso quindi questa è un'ottima notizia perché ho bisogno di fare una cosa in questo momento forse ho trovato la mia occasione ragazzi voglio che uno zombie sia un mio compagno ora penserete che sono pazzo completo e forse avete ragione però ho notato che gli zombie scacciano gli zombie cioè non so se vi siete mai accorti ma nessuno zombie combatte contro un altro zombie questo probabilmente è perché in lui non ci vede nulla di interessante sentono probabilmente l'odore o lo vedono quindi questo ragazzi secondo me è il modo per poterli scacciare per non averne più intorno avere un compagno zombie e questo zombie a quanto pare non mi attacca non so per quale motivo quindi questo significa che appunto siamo immuni con lui agli zombie che potrebbe essere un ottimo ottimo punto in vantaggio finché qualcuno non ce lo uccide speriamo di no oh mio dio mi stai inseguendo mi stai inseguendo veramente ragazzi abbiamo trovato michael de santa come zombie e ce l'abbiamo come zombie compagno senza senza dover fare niente questo è un easter egg che figata è ok quindi adesso purtroppo è notte sfortunatamente quindi abbiamo assolutamente bisogno di tornare all'accampamento però ho visto che c'è anche un bellissimo e mi piace tantissimo come cosa ragazzi non so come fare cioè mi dovrei inseguire mi sa che mi deve inseguire a piedi per fortuna corre a quanto pare come gli altri zombie che corrono senza urlare grazie al cielo perché sennò diventavo pazzo quindi proviamo è una prova ragazzi questa per ora non vedo zombie che mi stanno inseguendo quindi forse potrebbe funzionare mi immagino già io che sono sul trono di un accampamento da re e a che chi commette qualche crimine all'interno dell'accampamento lo do in pasto al mio zombie adesso vediamo ok purtroppo stavo per andare al posto della merry weather ma purtroppo abbiamo appena fallito a riprendere quindi andiamo direttamente a casa che così possiamo riposare la notte ok c'è uno zombie che corre vediamo di avvicinarci di più a michael vediamo se lo manda via apparentemente no sembra che michael non abbia nessun effetto ok questo è un brutto è un brutto problema perché potrebbe significare che michael non serve wow 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 per fortuna ho ucciso lui e non michael eh oh stava cercando di no michael è morto non ci posso no non è morto per fortuna ok non ci credo ragazzi non solo l'abbiamo addomesticato a seguirci ma sale pure sulla moto oh mio dio ok ok adesso mi stanno inseguendo sì sembrerebbe ancora di sì ma stanno un po' più lontani che è un'ottima notizia torniamo verso casa wow mi sa che abbiamo appena sbloccato una delle cose migliori di questo gioco e di questa serie wow bellissimo ora purtroppo è notte quindi vedete che gli zombie sono molto più aggressivi parcheggiamo sempre qui la nostra moto perfetto scendiamo abbiamo michael de santa come nostro zombie personale come compagno perché un compagno non zombie è utile naturalmente perché può salvarci la vita in qualche caso vediamo se sale dentro teoricamente se è uno zombie vero non dovrebbe riuscire a salire dentro fate caso che io mentre dormo lui impazzisce e mi inizia a mangiare il cervello e lì muoio invece per fortuna rimane di fuori così questa zona rimane una zona zombie free oh perché c'è un buco qua ok ragazzi dobbiamo aggiustare questo buco mi sa adesso in attanto dormiamo tanto questa è una zona sicura ci abbiamo dormito già altre notti però domani dobbiamo riparare quel buco lì vedere se michael esiste ancora e poi magari non lo so vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro ok buongiorno ragazzi benissimo ho dormito abbastanza bene ma purtroppo questa cosa mi sta davvero tormentando il fatto che ci sia un buco qui ok inventario porta no mi serve il muro vediamo se è disponibile sì per fortuna è disponibile ne abbiamo già uno nell'inventario perfetto probabilmente è quello che è sfuggito quindi ok ruotiamolo mettiamolo esattamente come era prima più o meno almeno bene quindi ora la nostra casa è di nuovo sicura andiamo a vedere se michael è ancora lì oppure è scappato è probabile che sia scappato però magari è rimasto nella stessa zona vediamo sono molto curioso di sapere sembrerebbe essere scappato non c'è non oh ok forse l'ho trovato ragazzi oh mio dio è lui non ci credo non ci credo cosa sta facendo è uno zombie che sta attaccando gli altri zombie non ci posso credere ok adesso vediamo un secondo se quando ha finito ragazzi se ci insegue ancora oppure si è buggato da qualche parte ah vediamo ok ce l'ha ancora con quella zombie forse pensa che non sia ancora morta è come fosse un cagnolino che ci aiuta a combattere il crimine ragazzi che figata michael de santa ti ringrazio molto per il tuo aiuto da zombie non so per quale motivo mi stai aiutando direi che puoi seguirmi e ok ti applico non ti do nessun'arma perché non hai bisogno di un'arma apparentemente ok diamine aspettate che adesso a questo punto l'unica cosa che voglio fare è cercare se c'è la merry weather che rilascia uno di quei pacchetti perché non solo trovo tante munizioni lì ma trovo anche cibo e cose che mi servono per sopravvivere cose che possiamo mettere nel nostro accampamento quindi aspettiamo che la merry weather rilascia qualche pacchetto e poi ci vediamo una volta che abbiamo la notifica ok wow neanche finito di dire c'è la merry weather che ha rilasciato un pacchetto molto vicino qua abbiamo uno zombie che scaccia gli zombie e che attacca gli zombie abbiamo delle armi siamo a posto e siamo pronti per poter prendere quei pacchetti ora anche se ci sono dei nemici la notifica arriva a tutti coloro che hanno una radio ok questo è un pacchetto della merry weather perché c'è un pacchetto lì che non è il nostro non ne ho idea però prendiamo sotto un po' di zombie qua ok stiamo entrando in una zona ostile me lo sta appena dicendo oh mio dio è tanta persone armate persone armate ragazzi vediamo di ucciderne oh mio dio hanno sparato a michael hanno sparato a michael ma è uno zombie forte lui non penso che abbia problemi ora ci sono dei nemici ci sono degli amici ci sono tantissime persone della merry weather che non so perché sparano pensavo ci aiutassero invece a quanto pare no quindi dobbiamo prendere quello che hanno ma è molto difficile qui perché come vedete sono tanti e sono armati oddio ho pochissima vita ragazzi ho pochissima vita questi sono uomini molto molto forti michael michael ok mi sanno che hanno ucciso michael mi sa che hanno ucciso ma non ci posso credere che dura solo un episodio michael mamma mia morite tutti ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta sembro essere l'unico nell'area l'area è veramente ostile ma abbiamo un sacco di armi adesso munizioni tutto quello che ci serve wow è stata faticosa michael è morto per questo abbiamo anche un bel po' di zombie che stanno cercando di mangiarsi i cadaveri quindi questa è un'altra cosa che dobbiamo risolvere ora capisco perché quei tizi a cui abbiamo rubato le armi prima non sparavano alla testa con quest'arma è praticamente impossibile sparare alla testa senza sparare al resto perfetto quindi adesso abbiamo un po' di munizioni utile anche il cecchino che sarà estremamente utile vediamo che cosa riusciamo qui ragazzi a prendere da questa cassa prima o poi si aprirà in qualche modo ok perfetto l'ho presa sei cose abbiamo trovato dentro ma non so bene quali siano perché non me lo dice ok non abbiamo trovato armi o forse sì non lo so non lo so che cosa abbiamo trovato risorse oggetti non ne ho idea lo dovremo scoprire quindi adesso abbiamo fatto tutto purtroppo andiamo a vedere se michael è effettivamente morto ma mi sa uh lo stanno mangiando non ci credo c'è uno zombie che sta mangiando un altro zombie mandiamolo assolutamente via peccato ragazzi è morto michael de santa immediatamente quindi due personaggi già sono morti michael de santa e franklin clinton abbiamo trovato tutti e due zombie e tutti e due purtroppo hanno fatto una brutta fine il primo l'ho ucciso io perché non pensavo mi servisse ed era uno zombie come gli altri il secondo invece ci ha offerto un buon servigio per quel poco che è durato ragazzi quindi direi di terminare qua grazie a tutti della visione lasciate un like mi raccomando iscrivetevi in descrizione c'è il link per scaricare questo gioco wow c'è un altro un'altra cassa della merry weather disponibile comunque come vi stavo dicendo in descrizione c'è il link per scaricare questo gioco per comprare la mia maglia e la mia felpa ufficiali inoltre anche per seguirmi su instagram facebook eccetera eccetera quindi grazie ancora ragazzi arrivederci non so che cosa mi serve per costruire il muro ma sicuramente allora 4 pezzi di legno e 3 binding che probabilmente sono qualcosa per legarli questi pezzi di legno grazie a tutti grazie a tutti